Messa da parte la surreale settimana burocratica che ha portato all'apertura del San Filippo solo nel tardo pomeriggio di venerdì, in casa Messina adesso è tutto proiettato sulla sfida decisiva in chiave salvezza da giocare contro i Locri. Il gruppo vuole il sostegno dei tifosi, chiamati a raccolti a mettere da parte, almeno per quei 90 minuti, la contestazione dei confronti della società per spingere Catalan e compagni alla conquista della vittoria. Tre punti che potrebbero essere decisivi non solo per la conquista della salvezza, ma in generale per la sopravvivenza e il futuro della CR Messina. Perché se è vero che la società è sul mercato e che il gruppo Sciotto valuterà eventuali offerte, è altrettanto evidente che ogni trattativa è subordinata al mantenimento del titolo in Serie D. Capitolo formazione, Biagioni non dovrebbe modificare l'assetto proposto domenica a Castrovillari, nonostante il rientro dalla squalifica di Barbera e la settimana in più di allenamenti sostenuta da Pirrone, che sta mettendo minuti nelle gambe. Meo tra i pali e Aldrovrandi in corsia a Mancina hanno mostrato ampie garanzie e la loro conferma stuzzica il tecnico romano. Il resto della formazione poi appare fatto, la coppia difensiva Ferrante-Zappalà regala carattere e solidità, mentre davanti ci si aspetta tanto dal trio over formato da Arcidiagono, Catalano e Marzullo, che in settimana sollecitati dall'ottimo lavoro dell'ufficio stampa hanno suonato la carica e motivato l'ambiente. Intanto, in mattinata è già partita la prevendita nei consueti punti autorizzati, che proseguirà fino ai minuti antecedenti l'inizio della partita presso la biglietteria del Pararecifina. Si vagheranno 10 ore in curva sud e 20 in tribuna A.